Iscriversi al corso di Influencer Marketing IED perché come sappiamo gli influencer sono uno dei media preponderanti di questi ultimi anni e quindi è fondamentale imparare a conoscerli per poter costruire con la ro dei progetti che siano funzionali e di valore da un punto di vista strategico creativo e anche operativo. Nei lavori che abbiamo presentato ai brand in aula alla fine del corso ho potuto veramente vedere che i ragazzi hanno applicato i principi strategici e anche soprattutto creativi che abbiamo imparato nel corso delle settimane. Questo per creare con loro dei progetti che prevedessero il coinvolgimento degli influencer che fossero dei progetti veramente di valore che potessero fare la differenza nel mondo del digital. Grazie a tutti per aver guardato il corso del corso del corso del corso del corso di